dove per quale scopo si comprano i capelli. I capelli veri vengono acquistati per fabbricare le parrucchie e le extension. Si possono trovare gli acquirenti tramite i saloni parrucchieri o direttamente dai produttori delle parrucchie e extension nella propria zona di residenza oppure sui siti web. Tuttavia, non è ed è che nella vostra città troverete l'offerta migliore per i vostri capelli. Ad esempio, la mia amica Francesca un'azienda della sua città offriva 70 euro per 100 grammi, alla fine lei si è rivolta ad un venditore in Milano che le ha pagato 130 euro, 100 grammi. I miei capelli sono stati valutati da un salone a Napoli in 50 euro per 100 grammi, mentre un laboratorio a Torino era pronto a pagarne i 150 euro. Un altro fattore che spesso è difficile trovare sulle recensioni su internet sono le aziende locali. Così pensava un'amica mia proveniente di una piccola città. Invece, lei ha trovato un acquirente di un altro posto del quale su Facebook ha trovato tantissime recensioni positive. Ho ben pensato che ci voleva troppo tempo per fare un giro delle chiamate di saloni e aziende e ho deciso di cercare su internet per risparmiare tempo ed eventualmente i soldi per il viaggio. Alla fine ho capito che usando internet riuscirò a vendere i capelli con molta più facilità, nei tempi più brevi e guadagnerò di più. Alcune mie amiche sono state d'accordo con me. Ecco cosa abbiamo fatto. Quanto si può guadagnare? Innanzitutto, ho parlato con un acquirente dei capelli che si occupa di questo settore dal 2011. Mi ha spiegato che il prezzo si calcola a seconda della lunghezza a chiacolore, struttaglio dei capelli. Altri fattori importanti sono la presenza delle due punte e il faus e i capelli sono stati tinti. Le donne di qualsiasi età possono vendere i capelli. I capelli delle bambine sono apprezzati di più grazie alla loro morbidezza, i capelli delle donne più anziane di meno a causa della canizie. Più lunghi sono i capelli più alto sarà il prezzo per 100 grammi. Gli acquirenti sono pronti a comprarli a partire dai 40 centimetri però un buon prezzo parte dai 50 centimetri in poi. Se ci sono le due punte, il prezzo si riduce di 10%. Se i capelli si spezzano sotto alla lunghezza, il costo sarà due volte di meno. Tavia, è sconsigliato tagliare i punti spezzati da soli perderete sia la lunghezza sia molto più soldi. I capelli chiari hanno un valore più elevato, in quanto sono più fini e rari. I capelli tinti non si comprano proprio oppure li pagano due volte meno risto a quelli naturali. I capelli fini, morbidi e setosi sono quelli più apprezzati. I capelli appena tagliati sono considerati vivi, qualunque cosa possa significare, quindi il prezzo sarà più alto. Per cui tagliateli solo dopo esservi messi d'accordo sull'acquisto. Una coda dal taglio reo costa di più a effetto per lo secondo le istruzioni del cliente. Il costo finale sarà definito quando i capelli saranno tagliati e pesati calcolando il prezzo per ogni 100 grammi. Preparare i capelli per la vendita. Prima di rivolgervi ai venditori decidete quale lunghezza volete vendere. Misuratela e fate la foto. I capelli vanno misurati nel modo seguente. Fate la coda bassa al livello della nuca. Decidete quanto volete lasciare di lunghezza al di sotto dell'elastico. Se tagliate i capelli fino alle radici sulla nuca rimarranno troppo corti. Mettete un altro elastico e misurate la lunghezza dal secondo elastico fino alla punta della coda. A me la lunghezza della coda è arrivata fino a 49 centimetri. Gli acquirenti sanno che facendo la treccia la lunghezza si accorcia di 2-4 centimetri e valutando i capelli calcolano la lunghezza di quelli sciolti. Per questo misurare e dire la lunghezza della treccia gli acquirenti sarebbe un errore. Annunci sulla vendita. In internet ci sono i siti dove si può pubblicare il proprio annuncio gratuitamente. O leo prima gli annunci simili. Ho parlato con gli acquirenti potenziali composto il testo dell'annuncio e fissato il mio prezzo. Nella descrizione dei capelli dovete indicare i parametri successivi. La lunghezza. Se sono slavi o asiatici. Se sono stati tinti. Se hanno le due punte. In cerca dei clienti. Siccome io volevo vendere i capelli al miglior prezzo. Non mi sono fermata qui. Ho iniziato a cercare gli annunci dei venditori. Nel campo di ricerca di google e facebook ho scritto può vendere i capelli. Tra i risultati ho scelto le pagine di cinque aziende che cercavano i capelli in telecittà. Sui siti le aziende indicano i link dei loro social e numero di telefono per essere contattati. Io non ho chiamato nessuno. Preferivo mandare i messaggi. Negoziazioni. Ho contattato cinque acquirenti potenziali V. In più un altro mi ha contattato avendo trovato il mio annuncio. Durante la contrattazione il prezzo iniziale è aumentato di 1,5 volte. Ad alcuni io odio direttamente che volevo ricevere più soldi. Agli altri non ho risposto proprio dopo una settimana loro mi hanno ricontattato e hanno proposto un prezzo più alto. Gli acquirenti pagano non solo per la merce stessa. Questa informazione non si trova su ogni sito. Alcuni non menzionano i dettagli per cui io chiedevo direttamente ai clienti se loro mi restituivano le spese extra. Ti hanno promesso di pagare le spese di spedizione. Gli acquirenti indicano questo nel loro annunci. Quattro acquirenti su sei erano pronti a restituire una parte del costo del taglio dal pagliere mio. Il compenso dipende dal valore dei vostri capelli. Se tagliate i capelli nel posto che indica il cliente, loro sono pronti a pagarvi qualsiasi taglio e acconciatura che volete. Ho ricevuto tale proposta pur dai quattro acquirenti su sei. Una delle aziende ha proposto di coprire una parte delle spese per il viaggio fino alla loro città. Nel mio caso il compenso sarebbe stato il 70%. Però dopo il contatto con loro ho scoperto che l'offerta toccava solo i venditori con i capelli chiari. Taglio. È meglio tagliare i capelli direttamente prima di venderli. L'inquirente vi comunicherà delle istruzioni su come farlo in modo corretto. Per esempio, un'amica mia ha ricevuto le istruzioni al telefono. Si è fa lo shampoo ha trattato la chioma con il balsamo e l'ha tagliata lei da sola. Ha fatto la foto vicino al metro per confermare la lunghezza e pesato sulla bilancia del supermercato. Dopodiché le hanno detto il prezzo finale. Lei ha legato la coda in tre punti per evitare che si arruffi nel viaggio e l'ha impacchettata in una busta di plastica. Spedizione pagamento. Si può spedire la merce con la posta oppure con un'azienda di spedizione. Il corriere verrà a casa per prendere il vostro pacco. In questo caso vi possono pagare direttamente mentre avete il corriere a casa e na lui controllerà la lunghezza ed il peso del capelli. E li confermerà al cliente. Vi faranno il bonifico sulla carta di credito. Un'altra amica mia è stata dal suo parere sabato, dopodiché ha inviato due foto all'acquirente con il metro e sulla bilancia del supermercato. Lunedì il corriere è venuto a casa sua e mentre faceva la carta riguardo la spedizione, la mia amica ha ricevuto i soldi sul bancomat. Altri clienti propongono di consegnare i capelli al corriere ed aspettare il pagamento dopo che li ricevono e controllano. In questo caso io chiedevo quali garanzie mi potevano dare. Un cliente ha fatto riferimento alla sua perfetta reputazione, un altro ha proposto di mandare una copia del contratto. All'ultimo ho deciso di non vendere più i miei capelli anche se ho ricevuto 5 proposte buone. Che cosa ho imparato sulla vendita dei capelli? Se abitate in una piccola città vi sarà più facile vendere i capelli su internet in quanto i clienti delle grandi città sono pronti a pagare di più. Si possono vendere i capelli dai 40 cm in poi. Si possono ricevere le migliori offerte se oltre all'annuncio della vendita cercherete di rispondere agli annunci degli acquirenti. Contrattate sul prezzo potete riuscire a guadagnare di spese della spedizione e taglio incluse. Bisogna tagliare i capelli direttamente prima di spedirli e seguendo le istruzioni dell'acquirente.